Non c'è saluto. Adesso vi descrivo un mio recente momento di felicità che chi mi segue su Facebook vede immortalato nel mio profilo. Ieri è passata a casa mia Maria delle Acciughe, che è un personaggio della Guardiana del Faro di Barbara Alberti, che è una signora che racconta questi suoi amori con un venditore di acciughe. È passato un attimo doveva cambiarsi perché doveva andare a un concerto. Aveva un concerto che c'era ieri al Santa Cecilia di un pianista sommo, sublime, Kissin, un ragazzino che suona come un invasato. Confronto a Levi sembra un suonatore di organetto dentro la metropolitana, cosa che in realtà lo è in assoluto, però di fronte a Kissin scompare.